Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Sapete cosa sono le isole linguistiche? Sono delle zone in cui una popolazione parla una lingua che è diversa rispetto a quello che viene parlato intorno a loro. Possono essere singole o possono essere molte sparse su un territorio. Uno degli esempi più classici che si fanno in tal senso sono gli arberesce, che sono questa popolazione di origine albanese che continua a parlare albanese ma che vivono da secoli in Italia, sparsi in varie zone, in vari comuni del sud Italia. Ci sono delle isole linguistiche però molto più particolari e meno conosciute come quelle dei Tabarchini, che sono una popolazione che vive su due isole del sud-ovest della Sardegna, cioè l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco, che parlano un dialetto che è di origine genovese, quindi di origine ligure, che non ha praticamente nulla a che fare con il sardo che viene invece parlato dalle popolazioni che li circondano. Come sono arrivati questi Tabarchini in queste isole? Beh, ovviamente una prima risposta sembra semplicissima. Saranno i discendenti di mercanti genovesi che commerciavano con la Sardegna? E invece no. La storia è molto più complicata e per aggiungere un po' di pepe a questa storia potrei dirvi che esiste in Tunisia un'isola chiamata Tabarca, che in qualche modo sembra connessa a questi Tabarchini e che in Spagna, di fronte alla zona di Valencia, esiste anche qui un'isola che viene chiamata invece Nuova Tabarca. Insomma, c'è qualcosa di particolare che lega la Liguria, la Sardegna, la Tunisia e la Spagna ed è proprio quello che andremo a raccontare oggi, raccontando la storia dei Tabarchini e scoprendo come queste isole, piccole isole linguistiche che ancora adesso sopravvivono, ci aprano letteralmente degli squarci su storie che non potremo neanche immaginare. Come spesso capita con le storie che derivano dalla Sardegna, un grandissimo ringraziamento ad Antonella Romano, che anche questa volta ha fornito tutto il materiale, e un ringraziamento anche a suo papà, che in effetti la pillola l'aveva consigliata. Quindi un ringraziamento questa volta a tutti e due. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. La nostra storia inizia all'inizio del XVI secolo in Tunisia. All'epoca la Tunisia era una terra contesa, una terra contesa tra due potentati musulmani. Da una parte gli Afsidi, una famiglia che aveva governato la Tunisia da moltissimo tempo, dall'altra gli Ottomani, il cui sultano, essendo califo dell'Islam e massima autorità dell'Islam sunnita, era convinto che tutti i territori abitati da musulmani dovessero giurargli fedeltà. La longa mano del sultano in questa zona era però un ammiraglio, un pirata, come veniva chiamato nella cristianità, cioè Aydin Barbarossa. Barbarossa non era un pirata come tutti gli altri, è probabilmente il più grande ammiraglio che la flotta ottomana abbia mai avuto, un uomo il cui nome letteralmente terrorizzò per 30 anni le coste del Mediterraneo occidentale, le cui flotte non solo riuscirono a stabilire il suo dominio su Algeri, su una parte della Tunisia, ma si spinsero più e più volte in tutta l'Europa, razziando, catturando schiavi per poi portarli a Costantinopoli. Un uomo la cui tomba, pensate ancora oggi, si trova a Istanbul e la meta dove ogni anno la flotta turca si ferma per rendergli omaggio, proprio quasi un simbolo di una grandezza che sopravvive attraverso i secoli. Bene, Barbarossa, come potete immaginare, all'epoca era un problema non solo per gli afsili, che temevano di farsi strappare il controllo della Tunisia, ma anche per i cristiani, che nel 1534 dovettero subire una terribile serie di razzie che portò la flotta di Barbarossa a colpire varie zone del sud Italia, che all'epoca era nell'orbita degli spagnoli. Per questo Carlo V, Carlo V d'Asburgo, decise di legarsi in una temporanea alleanza proprio con gli afsidi, di legarsi con loro e di cercare di scacciare, mandando una flotta comandata da genovese Andrea Doria, le forze di Barbarossa, il quale venne inizialmente sconfitto, fu costretto a ritirarsi a Tunisi e da qui, avendo poche navi a sua disposizione, venne costretto alla fuga da Andrea Doria, che piombò in città e la conquistò, riuscendo a fare un grandissimo bottino e temporaneamente sottomettendola agli spagnoli. Inizialmente era girata voce che Barbarossa fosse addirittura morto, che il terrore dei mari cristiani fosse stato in effetti ucciso dai genovesi e dagli spagnoli. Ma le cose non stavano così. Anzi, Barbarossa, per dimostrarlo, raccolse una nuova flotta e si spinse fino alle coste spagnole, in realtà all'isola di Minorca, dove fece una grandissima razzia, portando a Costantinopoli più di duemila schiavi. Quando ci si rese conto che Barbarossa era tutto forché sconfitto, gli spagnoli capirono che avevano bisogno di sfruttare quei territori che avevano appena conquistato in Tunisia per cercare di stabilire delle roccaforti. E per questo, dopo essersi legati diplomaticamente agli afsili che erano tornati al potere, ottennero alcune posizioni da poter sfruttare a questo scopo, come ad esempio il porto di Lagoletta, vicino a Tunisi, ma anche un'isola. Un'isola situata dalla parte opposta, al confine tra l'odierna Tunisia e l'odierna Algeria, che era appunto l'isola di Tabarca. Ora, quest'isola rappresentava allo stesso tempo un grosso vantaggio, ma anche una spesa, perché ovviamente gli spagnoli non avevano forze per poter controllare ognuno di questi posti, ed era quindi necessario trovare qualcuno che gli aiutasse per poterlo fare. Carlo V trovò questo qualcuno in un nobile genovese, che si chiamava Federico Lomellini. Ora, la famiglia dei Lomellini era una famiglia molto ricca, era imparentata con l'ancora più ricca famiglia dei Grimaldi, e grazie al suo buon nome riuscì ad ottenere dagli spagnoli il controllo dell'isola, in cambio della costruzione di una fortezza che avrebbe dovuto vigilare proprio sul passaggio dei pirati in questa zona. Ma perché Federico Lomellini voleva quell'isola? Era forse la sua volontà di aiutare gli spagnoli? Di espandere i domini della sua famiglia? No, era una volontà molto più economica, molto più prosaica. Lomellini infatti sapeva benissimo che quella zona era molto ricca di corallo, ed era quindi deciso ad impiantare sull'isola un piccolo villaggio che potesse servire a dei pescatori proprio per andare a staccare il corallo dal fondale per poi rivenderlo. Lomellini, che aveva ovviamente bisogno di pescatori fidati, non pensò mai di procurarseli sul posto tra le popolazioni musulmane della Tunisia, ma pensò di prenderle da coloro che conosceva meglio, cioè appunto i Liguri, in particolare genovesi della zona di Pegli, che all'epoca era un villaggio isolato, oggi invece fa parte della città di Genova. Bene, proprio da Pegli, negli anni successivi alla conquista dell'isola, partirono dei gruppi di pescatori che iniziarono a dirigersi sull'isola di Tabarca. Qui impiantarono appunto un piccolo villaggio e iniziarono la pesca. Inizialmente questi pescatori lo facevano su base stagionale, era un lavoro sostanzialmente. Lomellini, che peraltro a Pegli aveva un grandissimo palazzo, raccoglieva questi pescatori che volevano andare a fare la stagione in Tunisia, so che sembrano termini oggi legati al turismo, ma all'epoca succedeva anche questo. Ebbene, raccoglieva questi pescatori che venivano portati a Tabarca, qui pescavano e poi tornavano indietro. Progressivamente questa cosa ci si rese conto che era poco utilizzabile e ad un certo punto Lomellini spinse alcuni di questi a stabilirsi effettivamente a Tabarca, creando un vero e proprio insediamento, ampliando il forte di protezione, costruendo un mulino, costruendo una chiesa, insomma venendo a creare un vero e proprio villaggio. Un villaggio che all'inizio del XVII secolo iniziò a crescere sempre di più. Quando Lomellini, che intanto era rimasto solo perché inizialmente aveva avuto l'appoggio dei Grimaldi, che poi dopo una trentina d'anni si erano ritirati, la famiglia dei Lomellini iniziò a permettere ai pescatori di portare sull'isola anche le proprie famiglie, le mogli, i figli, in questo modo creando un vero e proprio insediamento. Un insediamento ligure, che parlava in ligure, però davanti alle coste tunisine. Questo insediamento negli anni successivi continuò a crescere e anche quando iniziò a diventare sempre più difficile la raccolta del corallo, un po' a causa della concorrenza dei pescatori francesi che si erano installati nella vicina Algeria, un po' a causa del fatto che i banchi di corallo si stavano progressivamente assottigliando, scomparendo a causa proprio della pesca selvaggia, i Lomellini pensarono di cambiare un po' la base economica dell'isola, portando nella zona alcuni pescatori di tonni, che provenivano invece in questo caso dalla Sicilia, i quali raggiunsero l'isola e installarono, insieme ovviamente alla pesca del corallo che continuò, anche la pesca dei tonni. Perché ve lo dico, ricordatevi di questi pescatori siciliani che pescavano i tonni. Poi alla fine riprenderemo tutte queste cose e capiremo come oggi, oggi, nei tabarchini di oggi, tutte queste cose si ritrovino. Mentre la comunità cresceva, e in effetti cresceva abbastanza, superando anche le 2000 persone, un po' per le famiglie in loco, un po' perché continuavano in realtà ad arrivare dei nuovi pescatori provenienti dalla Liguria, non numeri enormi, ma che su un'isola piccola in qualche modo si facevano sentire, mentre la comunità cresceva, qualcun altro iniziava a pensare di aver bisogno dei tabarchini, e quel qualcun altro era Carlo Emanuele di Savoia, re di Sardegna. I Savoia, come tutti voi sapete, tra il 1718 e il 1720, con il Trattato dell'Aia, riuscirono ad ottenere la Sardegna, sostanzialmente scambiandola con la Sicilia, che avevano conquistato pochi anni prima. Quando però si trovarono a dover gestire la Sardegna, si resero conto che il paese era purtroppo molto povero, molto chiuso, perché era stato ampiamente sfruttato da chi lo aveva dominato precedentemente, e aveva bisogno di crescere. Ora, i Savoia non faranno grandi investimenti in Sardegna, diciamolo, tratteranno l'isola praticamente come una colonia, ma esattamente come una colonia, anche i Savoia pensarono di far installare delle comunità, per così dire, di fiducia in varie zone dell'isola. In particolare, Carlo Emanuele di Savoia aveva in mente di far installare una comunità di pescatori nella zona sud-ovest dell'isola, tra l'isola di San Pietro e quella di Sant'Antiaco, iniziando proprio dall'isola di San Pietro. Per poterlo fare, decise di rivolgersi proprio a delle popolazioni di origine ligure, ma quando iniziò a contattare queste ultime, venne a sapere della storia dei tabarchini, venne a sapere che la popolazione era cresciuta troppo, che il lavoro stava iniziando a venire a mancare, che anzi molti stavano progettando di abbandonare l'isola, andando a cercare migliori condizioni di vita, e capì che facevano al caso suo. Perché si sarebbe trovato non solo una popolazione, a suo dire, di fiducia, ma anche una popolazione che avrebbe potuto essere già preparata per quello che pensava sarebbe dovuto essere il suo lavoro, il loro lavoro, cioè appunto quello di pescatori. Per questo, nel 1738, Carlo Emanuele di Savoia decise di contattare la popolazione dei tabarchini proponendo loro di trasferirsi sull'isola di San Pietro. Ora, non aveva ovviamente intenzione di mollarli su un'isola disabitata. L'isola era stata preparata, erano stati costruiti i primi edifici, erano stati anche costruiti dei ponti per connetterla con altre zone. Insomma, era stato tutto preparato. Ci sono alcune leggende che parlano di una fuga di tabarchini che scappavano verso la Sardegna, dove trovarono il nulla. Le cose non andarono così. Fu un trasferimento organizzato. Un trasferimento che, a quanto pare, riuscì a convincere una parte della popolazione, che, appunto, nel 1738 decise di abbandonare l'isola di Tabarca e di spostarsi, invece, in Sardegna, occupando, appunto, l'isola di San Pietro e iniziando a vivere in questa zona. La scelta non fu sbagliata. Non fu sbagliata perché, in effetti, i rapporti tra i pescatori e le comunità musulmane della Tunisia erano progressivamente peggiorate, con queste ultime che avevano iniziato a chiedere più volte al Bey di Tunisi di scacciare quei cristiani dall'isola per permettere loro di riappropriarsene. Nel 1741 il Bey di Tunisi decise di ascoltare quelle richieste. Si presentò sull'isola, la conquistò, razziò tutto quello che riuscì a trovare e, soprattutto, catturò i tabarchini rimasti facendoli schiavi e portandoli con sé in Tunisia. Questi tabarchini rimasero schiavi per molti anni. Dopodiché alcuni di loro furono liberati. Alcuni furono liberati dai Savoia, che pagarono per loro il riscatto e li convinsero a trasferirsi presso di loro. Alcuni a San Pietro, altri nella vicina isola di Sant'Antioco, tra poco ne parleremo. Altri, invece, saranno liberati dal re di Spagna, che li convincerà a stabilirsi su un'isola di fronte alle coste valenziane, a 4,5 km dalle coste valenziane. Isola che prenderà proprio il nome di Nuova Tabarca. A questo punto, le tre comunità di tabarchini seguiranno delle strade completamente diverse. Perché quelli che si spostarono in Spagna costituirono una nuova comunità, appunto, su quest'isola, che progressivamente vide però l'inserimento sempre più di popolazioni spagnole. Tanto che all'inizio del 1900 le differenze tra i tabarchini e gli spagnoli scomparvero del tutto. E anche il dialetto parlato, dialetto che ovviamente era di origine ligure, andò a scomparire. E da allora sull'isola si parla spagnolo. E la cosa, la storia è ricordata principalmente dal nome. Per quanto riguarda, invece, i tabarchini che rimasero in Tunisia, le cose furono diverse. Alcuni di loro rimasero schiavi, ma la maggior parte progressivamente si andò a liberare. E costituirono delle piccole isole linguistiche continuavano a parlare il loro dialetto in Tunisia, che molto spesso iniziarono a diventare ricchi grazie ai collegamenti commerciali che, grazie alla loro origine, la loro lingua e anche alla religione che rimase cattolica, riuscivano più facilmente a creare con gli altri stati del Mediterraneo. Insomma, diventero un gruppo molto spesso ricco di mercanti che commerciavano tra la Tunisia e l'Europa. I tabarchini che invece si stabilirono in Sardegna in effetti crearono una comunità che si ampliò dall'isola di San Pietro anche all'isola di Sant'Antioco e andò a crearsi in due distinte comunità. Da una parte c'era l'isola principale, quella appunto di San Pietro, che era completamente abitata da tabarchini e che gravitava intorno alla cittadina di Carloforte, che prese questo nome ovviamente da chi l'aveva fondata, cioè Carlo Emanuele di Savoia. Dall'altra parte invece l'isola di Sant'Antioco, che era solo in parte abitata da tabarchini, gravitava intorno ad un altro centro chiamato invece Calasetta. In entrambi questi centri iniziò ad arrivare anche una certa immigrazione proveniente dal continente. Inizialmente un'immigrazione fatta anche in questo caso da pescatori liguri, spesso provenienti dalla stessa zona di Pegli da cui provenivano gli antenati dei tabarchini, che quindi si trovarono sostanzialmente a casa a poter parlare lo stesso dialetto. Dall'altra parte, a metà del 1700, arrivò anche un'immigrazione proveniente dal Piemonte, che, spinta proprio da Carlo Emanuele di Savoia, aveva venuto a stabilirsi in queste zone, che erano state scelte con l'idea che i piemontesi sarebbero trovati meglio a vivere insieme a popolazioni che parlavano un dialetto ligure, più vicino e comprensibile al piemontese, rispetto a popolazioni sarde. In realtà la convivenza tra i due popoli andò malissimo, perché quando i piemontesi arrivarono, trovarono che il territorio era già stato completamente occupato dai tabarchini, che ovviamente si erano prese le terre migliori, questo mi sembra ovvio, e quando arrivarono i piemontesi si resero conto che quella terra fantastica su cui poter impiantare le loro coltivazioni non esisteva, o quantomeno era nelle mani appunto dei tabarchini. E così, progressivamente, in pochi anni, i piemontesi abbandonarono quel territorio e tornarono a casa, ma lasciarono qualcosa di particolare, cioè le viti. In effetti i piemontesi erano venuti non solo per coltivare grano, gran turco e quant'altro, ma soprattutto per coltivare le viti, e lo stesso sovrano sardo aveva mandato dal Piemonte moltissimi vitigni per poter attecchire nella zona. Quando i piemontesi se ne andarono, lasciarono però le vigne, che iniziarono ad essere coltivate dai tabarchini e che ancora oggi sopravvivono rendendo la coltivazione della vite, quindi la viticultura e la pesca, le due attività principali di questa zona. Alla fine del Settecento le due isole prosperavano, un po' per la comunità, un po' per le coltivazioni, un po' anche per i legami commerciali che i locali riuscivano ancora a mantenere con la Tunisia, ed era questo stato uno dei motivi per cui erano stati fatti anche insediare nel sud della Sardegna. Legami commerciali che ovviamente continuavano ad avere grazie ai loro cugini, potremmo dire tabarchini, rimasti invece in Tunisia, come vi dicevo, nel frattempo diventati mercanti. A ricordare però quanto la Tunisia e la Sardegna fossero vicini, nel 1798 ci si misero ancora una volta i pirati provenienti dalla Tunisia, i famosi pirati barbareschi, i quali attaccarono la Sardegna, attaccarono proprio le due isole, in particolare la cittadina di Calasetta, e qui fecero non solo una razzia, ma catturarono anche degli schiavi, che saranno portati in Tunisia e qui venduti come schiavi. Alcuni, ancora una volta, saranno liberati grazie al pagamento fatto dai Savoia, altri invece rimarranno nella zona. Una di queste schiave, che si chiamava Francesca Rosso, che era molto giovane quando venne portata in Tunisia, divenne ben presto una delle favorite del Bey di Tunisi, del Signore di Tunisi, il quale l'ha presa nel suo harem, la fece diventare la sua favorita, e la quale divenne anche la madre del sultano successivo, cioè Ahmed. Ahmed fu un sultano molto particolare, non solo perché fu molto legato alla comunità di origine italiana, tra cui gli stessi tabarchini, tanto davvero addirittura un ministro degli esteri, che era di origine italiana, ma perché fu un sultano che cercò in tutti i modi di modernizzare, fu un Bey, chiedo scusa, che cercò in tutti i modi di modernizzare il paese, legandosi all'Occidente, cercando di importare nuove tecnologie dall'Occidente, e addirittura sarà il primo sovrano musulmano a fare un viaggio di Stato in Occidente. Fino a quel momento i viaggi erano stati più che altro di conquista e razzia, ma la cosa dopo tutto era anche reciproca. Ahmed non durerà tantissimo, ma in qualche modo la modernizzazione che aveva impresso alla Tunisia inizierà ad attirare sempre più investimenti commerciali ed economici che giungeranno da varie zone, come abbiamo raccontato nella pillola, nella prima puntata sulla storia del colonialismo italiano, investimenti che giungeranno anche dall'Italia stessa, dal regno delle due Sicilie prima e poi dal regno d'Italia. Questi investimenti, però, arriveranno anche dalla Francia, lo sapete benissimo. Francia che nel 1881 andrà ad attaccare la Tunisia e ad occuparla. Ci sono due curiosità legate a questa storia. La prima è che, curiosamente, il casus belli, invocato dai francesi, che in realtà fecero un attacco prettamente coloniale, ma il casus belli ufficialmente era legato ad alcuni attacchi fatti da una popolazione chiamata i crumiri, che vivevano proprio nella zona di Tabarca, sulla terraferma rispetto all'isola e in qualche modo che quindi rimase legato a questa storia. La seconda curiosità è che proprio la conquista da parte dei francesi farà sostanzialmente scomparire la comunità di Tabarchini in Tunisia, la quale si legherà ai nuovi venuti, inizierà a parlare in francese e sostanzialmente si unirà al resto della comunità francese del luogo, praticamente perdendo la propria particolarità e andando a scomparire. Tanto che la stragrande maggioranza di loro quando i francesi abbandoneranno la Tunisia si ritrasferiranno a loro volta in Francia, ma questa è un'altra storia. In Italia, invece, in Sardegna, tra l'isola di San Pietro e Sant'Antioco, i Tabarchini continuano ad esistere, continuano ad esistere ancora oggi, non solo, continuano ad essere una comunità che continua a parlare il proprio dialetto, così diverso rispetto al resto dei dialetti sardi, un dialetto che però ci racconta molto proprio della sua storia, perché la base, lo sapete benissimo, l'abbiamo già letto più volte, è quella di un dialetto di origine genovese della zona di Pegli, ma su quel dialetto si sono andate a inserire tutta una serie di termini presi da altre lingue, da altri lingue, da altri dialetti, a cominciare, ad esempio, da termini sardi, che ovvio ci siano, data la vicinanza tra i popoli che durano ormai da più di due secoli. Oltre a questi termini sardi, però, ci sono anche dei termini di origine siciliana che derivano, che sono legati principalmente alla pesca, al mondo della pesca, e che derivano da quei pescatori siciliani che vennero trasferiti sull'isola di Tabarca per diventare pescatori di tonni, che ovviamente iniziarono a parlare la lingua genovese dei locali, ma importarono alcuni termini legati alla pesca del loro dialetto. E oltre a questo, ovviamente, ci sono anche dei termini arabi che derivano dagli stretti contatti che i tabarchini ebbero per secoli con i musulmani di Tunisia. Insomma, un insieme di parole, lingue, che, incastrati sull'originale genovese, creano la lingua tabarchina di oggi. E tutto questo, peraltro, si vede anche nella cucina. Cucina che mette insieme vari aspetti. Aspetti della cucina sarda, aspetti della cucina genovese, a cominciare dal pesto, ma anche aspetti della cucina araba come, ad esempio, l'uso del couscous. Ecco, questi sono i tabarchini. Ci sarebbe poi tanto da raccontare su come oggi si cerca di mantenere questa tradizione, di mantenere questa particolarità del popolo ed è una delle cose che, secondo me, sono più importanti forse da ricordare. Perché queste piccole isole linguistiche che, purtroppo, tendono a scomparire, questo succede dovunque, sono però un grandissimo ricordo di quanto talvolta possa essere complicata la storia, di come, per far arrivare dei genovesi a parlare genovese in Sardegna, sia necessario farli passare dalla Tunisia, dalla Spagna e poi arrivare a raccontare proprio la loro storia in Sardegna. Io mi fermo qua, spero sia stato un viaggio interessante, di questo dovete ringraziare ovviamente Antonella Romano che mi ha mandato il materiale e suo papà che l'ha consigliata di farlo, quindi un grandissimo ringraziamento e ovviamente un grandissimo ringraziamento anche ad abbonati, Patreon e a chi fa donazioni sul conto PayPal perché anche grazie al vostro sostegno questo canale riesce ad andare avanti ma soprattutto riusciamo a produrre più materiale a disposizione di tutti e oggi il ringraziamento in particolare va a Laura I. Grazie, grazie mille per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto. Ciao ciao.